Alla vista dei carabinieri ha tentato di sbarazzarsi della cocaina, quasi quattro etti di polvere bianca che però i militari sono riusciti ad individuare. È successo ad Arezzo in manette finito un 32enne di origini albanesi con numerosi precedenti specifici. Il tutto era partito da alcune segnalazioni nella zona di Via Romana che avevano portato ad un'indagine vecchio stile, fatta di appostamenti, pedinamenti e attività di osservazione che avevano consentito di identificare lo spacciatore. Questa notte i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia Carabinieri di Arezzo sono entrati in azione rintracciando l'uomo nei pressi della sua abitazione. Alla vista dei carabinieri il 32enne ha tentato di disfarsi della droga a 370 grammi di cocaina suddivisa in sette involucri sperando di passare inosservato. Ma i militari lo hanno prima inseguito con l'auto e poi a piedi il pusher è stato bloccato dopo poche centinaia di metri. La cocaina è stata rintracciata e sequestrata. Nel corso della perquisizione domiciliare i militari hanno trovato anche una piccola quantità di marijuana, un bilancino di precisione e circa 1.500 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita di spaccio. I successivi approfondimenti hanno poi permesso di accertare che l'uomo era entrato in Italia illegalmente a seguito di un'espulsione dal territorio nazionale del 2018. L'uomo si trova attualmente nella casa circondariale Aretina, dovrà rispondere dei reati di detenzione, fini di spaccio di sostanza stupefacente e di rientro sul territorio nazionale senza autorizzazione.